Cioè io praticamente sono un nemico di Carlo come la vita reale e che mi chiede un consiglio che lui deve correre questa disavventura, diciamo, di andare a fare direttore artistico niente meno che al festival di Sanremo. Ovviamente lo vuol fare con una, diciamo, direzione che non sia il gran banale, che non sia quello già visto o portare voci nuove e interessanti e allora mi chiede, io cerco all'inizio di dirgli, lascia perdere, molla, non perdere tempo, poi alla fine dico, beh, dai, Carlo mio, andiamo insieme a vedere alcuni giovani nel progaretto, una cantina, che di forse qualcosa di buono lo troviamo. Ma perché io vedo in Roberto Agostino il personaggio giusto, che è sempre in sintonia con i tempi, chi conosce le tendenze, conosce dei posti strani, dei meandri della città, dell'Italia, che io non conosco e allora gli chiedo una mano per cercare di trovare dei musicisti, qualche cantante, giovani, che possano essere una novità per il festival di Sanremo, per il quale io ho detto sì come direttore artistico, in maniera molto incosciente, ma almeno in colze. E allora lui cerca di ammanamà, però mi mette anche in guardia sui disastri ai quali poteva andare incontro. Chiaramente dopo 40 anni di amicizia, di rapporti, di serene, controscene, abbiamo un certo feeling, quindi non abbiamo problemi credo, abbiamo solamente che c'è uno sbaglia, chiaramente lui è il primo di farla, non c'è nessun problema fra di noi, dato che io non sono un artista, quindi posso mettere a sua disposizione il meglio di quello che posso fare. Roberto non è un artista, Roberto è l'installazione. Io ritengo che la prima volta che vedi Roberto D'Agostino, lo vedi a casa di Renzo Arbore, tempori busillis, quindi parliamo sicuramente dell'84. No, io molto prima, perché io andai a vedere un paio di volte Carlo all'Alberichino 2, dove lui faceva il suo esordio con i personaggi che poi ebbero un tale successo che io andai a rivedere Carlo, mi ricordo ancora benissimo, al teatro Eliseo a Roma con un pubblico ancora ovviamente maggiore e io chiaramente mi innamorai subito della sua capacità istrionica di caratterizzare quello che era intorno in quel momento nell'aria, perché poi alla fine non si trattava di fare imitazioni, si trattava ben più difficile di comunicare un carattere e su quello che andrò, parliamoci chiaro, è imbattibile. Io credo che la nostra amicizia sia nata con Roberto veramente nell'85 a Forte dei Marmi, quando lui mi venne a trovare, io stavo là con la mia famiglia, lui venne e mi disse che fai? Dico sto a fanno a cena, la vuoi fermare a cena? E allora si fermò a cena e mi disse ma ce la facciamo in tempo appena andare a vedere zucchero a concerto a Viareggio? Dico ce la facciamo, se mangiamo dico, da là abbiamo fatto una cena veloce e poi siamo andati a vedere zucchero, siamo fatti un sacco di risate nel vedere persone strane, eccetera, poi sono rimasti a chiacchierare, abbiamo preso un gelato a Forte dei Marmi, però da quella serata nel concerto di zucchero in Versilia la nostra amicizia è diventata sempre più frequente e lui mi invitava spesso a casa sua quando abitava in zona portuense, abitavo a Biare Vaticano, scusa, e poi mi invitavo a una bella casa. Però è che è importante che poi... E poi ci piace la musica. Quello ecco, la nostra forza era anche quella di dire guarda è uscito un gruppo fantastico, guarda che siamo noi siamo ancora da quella generazione che gode, che ha il suo piacere vedendo un disco girare, con una musica che è fantassi. In fondo, rispetto a un mondo digitale, noi siamo analogici, nel senso che noi abbiamo avuto quel fatto che per noi la musica era non solo un intrattenimento per le orecchie, ma era uno stile di vita, era uno stile di godersi quella che un po' in fondo l'arte di vivere quello è stato il nostro compito, perché poi in fondo la nostra cultura nasce da quella cultura giovanile, musicale, rock e tutto quanto, che ce la mettiamo ancora sotto la pelle, anche se siamo mai, insomma diciamo, a 6 mili, a 7 mili, a 7 mili, tutto quanto, però abbiamo ancora, sentiamo un riff di Jimmy Pace, abbiamo in quel momento, abbiamo capito che cos'è il paradiso. Esatto.